Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui con un nuovissimo video Io sono SeriaDrax e oggi siamo qui con un nuovissimo video Oggi siamo qui come sempre su Minecraft alla puntata numero 11 Che saluta anche il mio personaggio ora proprio Mamma mia ragazzi Allora, si sta rigenerando il mondo perché in questo momento ha acceso E non vedo l'ora di andare a farvi vedere il portale del Nether Perché ragazzi ho perso un po' di tempo Ho sbagliato, ho sbagliato un po' con scusate, scusate Volevo andare di qua, ecco, ora si che si può andare Dai, entra Ragazzi allora vi devo far vedere una cosa perché ho perso tempo per costruire Ve l'ho tagliato un po' questa parte Perché ci mettevo veramente, veramente tanto Però prima di andare di nuovo nel portale e andare a morire Andiamo a mettere un secondo dentro alle ceste la nostra roba Perché sapete, non vorrei perdere tutto come l'ultima volta Ragazzi, credo che possiamo pure andare Costolette Ah è vero, è vero, avevo cucinato Aspettate, devo mettere questi due qui a cucinare Poi andiamoci a prendere il pollo e il pollo ragazzi E il pollo e altra carne Ok, credo che può bastare perché stiamo veramente, veramente pieni E vado un secondo a mettere alcune cose qui dentro perché non voglio portarmi Tutta la carne e tutte le cose varie Ragazzi, possiamo andare Me la sento, me la sento Stavolta non moriamo E così fu che siamo andati a morire Ragazzi, io parlo Io quando parlo, parlo E poi muoio veramente Aia No, 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 no Scherzo Scherzo No, non ci credo Perché? Perché sono stupido Infatti io ho parlato Perché non mi sto zitto E poi tengo delle armi veramente, veramente di Scusatemi sempre per la parolaccia ragazzi Anche se censuro Scusatemi sempre Ma perché sono così sfortunato I pezzettini di me Ragazzi sono rubato la mia armatura No questo non lo sapevo Non lo sapevo che si potevano rubare la roba No non tengo niente No no Aia metà di tutto Non ci credo Guardate Aiuto Non lo sapevo ragazzi Non lo sapevo che si rubava Tutta la roba mia No vabbè vabbè è scandaloso È scandaloso È scandaloso no vabbè Cioè va bene ragazzi Giocate un po' troppo con il fuoco Allora ragazzi andiamoci un secondo a fare l'armatura Anche se già la tengo meno male Me la so fatta tipo le altre volte Già Ecco Allora ragazzi è difficile È difficile è difficile Allora Sono intenzionato No questo diamante non lo posso prendere Mi metto pure L'elmo lo so È un po' Non sembro io ecco Non sembro io Andiamoci a fare Ragazzi però l'armatura d'oro Un pensierino Anche Anche c'era Ragazzi nel portale del nether Ci dobbiamo fare un'armatura d'oro D'oro È l'unica soluzione d'oro Perché è più figa da vedere Poi qualcosa con l'oro Lo dobbiamo fare Perché è inutile È veramente inutile Allora fatemi chiudere qua e qua Perfetto Ragazzi Dobbiamo andarci a vendicare Ci dobbiamo prendere la roba Perché non si può vedere Quel maiale Che ruba tutto Cioè lo chiamiamo Guarda là Guarda là Sei proprio un fango Sei proprio un pezzo di fango Ma perché non mi attacca Va bene Non mi attacca Ragazzi Un colpo Lo abbiamo shottato Allora abbiamo recuperato l'armatura Mamma mia Guarda Cioè Sicuramente ho perso qualcosa Che non mi ricordo Minimamente cosa Sì La balestra Eee Oh 360 Ma tutti schillatori Chi Aia Mi hai fatto un po' male Dammi la palestra Dammi la palestra Non me l'ha data Ah Oh Oh Ma sei un fuorileggere Ma sei un fuorileggere Aia E vabbè Ah 50 di loro 50 di loro Oh 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 Dove Eeeh Vabbè Vabbè raga Un cuore E da dietro E da E vabbè Dietro mi spawna il mondo Dietro mi spawna il mondo Non ci credo Sei un maiale di Sempre per le parolacce Ma Quando ci vuole Ci vuole Mmm Come caspiterina Passo di là Che mi shottano Ogni due secondi Ecco Un cuore Un colpo E son morto Levami pure La dignità Già che ci sei Ma Non fa niente No Non mi fanno neanche Entrare nel portale No ragazzi Entrate in casa mia Sono entrate in casa mia Sono entrate in casa mia Sono entrate in casa mia Siete dei pezzi di fango Siete dei pezzi di fango Cioè Fatevelo dire Veramente Siete dei pezzi di fango Abbiamo recuperato di nuovo Tutta la roba Le patate Non vi azzardate a colpirmi Ok Elmo Perfetto La spada La spada d'oro Mi manca E vabbè Tengo l'ascia d'oro Allora Non mi potete colpire Ok Ma come che Perché Mannaccia la miseria Muori 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 Lezzo Sei un lezzo Che devi morire Ah Mamma mia Cioè Io tengo gli stivali Tengo l'ascia Che cavolo vuoi da me Perché mi devi uccidere Ma Vabbè L'esperienza 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 T'ho buttato giù Devi morire Tutto Tutto male Tutto male O come ca Ragazzi ho sentito un gas Ho sentito un gas Perché era una puzzetta Cioè Era veramente una puzzetta Allora Non so Mamma mia Mi sono dimenticato Di che fa Maia Mi sono dimenticato Di Vabbè Ciao Ok Ok ho rotto Qui E ora Mamma mia Sei un lezzo Ok Un colpo È morto Cosa abbiamo trovato Ossidiana piangente Ossidiana piangente What Pietra nera dorata Allora Allora Non lo so cosa sia Ma non ci sta un modo Per prendere tutto Stivali d'oro Vabbè raga Prendiamo tutto Prendiamo tutto Poi Ci riguardiamo Balestra Ragazzi la balestra La balestra è fighissima Prendiamo tutto Tutto Ossidiana piangente Non so cosa sia Però è figa Non so cosa ho preso Ossidiana normale Oh sì Bello I pantaloncini d'oro Ci sta Ci sta Così non mi prendo niente Perfetto Abbiamo Preso Tutto Allora ragazzi Non so cosa sia Minimamente questa Questa cosa qua Ossidiana piangente Ma è fighissima Cioè fa vedere Degli strati viola Proprio Sembra che piange Veramente Ma non so Non so se porta Da un'altra parte Questa Ossidiana piangente Però Poi una Pietra nera d'oro Che non so Ragazzi Alla ci sta un'altra cassa Voglio andarla a prendere Lo voglio andarla a prendere Ragazzi Se vi ho trovato Un'altra cosa d'oro Ma qua Ragazzi Secondo me È pieno di lutto Qua di sicuro È pieno di roba Però Sapete Non vorrei andarmela A rischiare Ok Possiamo andare Di qua Più o meno Sopra Però non Mamma mia Ragazzi Non tengo niente Non tengo niente Cosa mi avete dato Blocco di Ossidiana Allora Aspettate che mi metto Un secondo la roba d'oro Ecco qua Così Non mi dovrebbero attaccare Per esempio Credo Allora Tengo la balestra Che la voglio un secondo Utilizzare Sbaglio sempre i tasti Sbaglio sempre i tasti Grazie Allora La mettiamo A posto Della pietra nera Ok Secondo me Ma che sta facendo No Ah ok Ah la devo pure caricare Ok carichiamo Eh vabbè ragazzi Eh ci metto 50 anni Per l'ammazzarla Cioè Credevo che Con la balestra Potevo fare qualcosina Che mi dice no Cioè guardate L'ho ucciso Dopo 50 anni Ok l'ho ucciso Meno male No non mi dire No lascia d'oro Lascia d'oro La dove Andrà a prendere Aspettate No 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 Non essere così bastardo Non essere così bastardo Aiuto 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 No 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 Mamma mia ragazzi Sto sudando Sto sudando oro Sto sudando oro Sto sudando oro L'ho trovata Sto sudando oro 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 No 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 Ti prego Ho trovato L'assidiana piangente Che non so minimamente Cosa sia Ma lo devo andare a vedere Dentro il tutorial Dove sto Casa mia Un pochino baccato Allora Fatemi mangiare Ragazzi ci stiamo Un casino di roba Mamma mia ragà Sto sudando Come non mai Cioè guardate Il riflesso Sto sudando Come un pazzo Sto sudando Come un pazzo Allora Con calma Le balestre Le metto qua Così Tiè Così Sandro E qua ci devono Stare le balestre Uh No aspetta Ci ho messo le cose Vabbè Le piccozze Allora Le frecce Le mettiamo qua Vabbè La roba Fra poco La metto Dove mi pare Ossidiana piangente Non so minimamente A cosa sia Ma mi piace Metterla qui Così è più figa Più Yeah Vabbè Aspetta che Tengo gli stivali Incantati Che Aspettate Voglio vedere Cosa servono Stivali dorati Attrezzature Velocità Della Dell'anima 3 Velocità dell'anima Uh Vanno più veloci Fanno correre più velocemente Da quello che so Vedete Ragazzi Non cambia un cazzo Non cambia un cazzo Allora Vabbè ragazzi Possiamo pure terminare Allora ragazzi Il video può finire qui Noi ci vediamo Un prossimo video Qui con il vostro Zedrax Alla prossima Bella ragazzi Ciao E vi saluta come sempre Anche il mio personaggio Ciao ragazzi Ciao Ciao